Allora qui c'era una casa simbola o un villaggio? No, qui c'era una villa romana, lato del canale però, noi siamo nella parte produttiva, artigianale diciamo. Ci troviamo su una linea di confine, la linea di confine è quella tra laguna e terra, tra una villa romana scavata però con l'archeologia subacquea sotto la superficie dell'acqua dove c'è quelle bricole, il legno e da questa parte invece dove ci sono i mucchi di terra un'archeologia terrestre tradizionale che ci racconta invece della parte produttiva della villa, quindi lì intonaci, mosaici, qui lavoro, produzione. In entrambi i casi ci spiegano come si viveva sull'acqua e come si viveva con l'acqua e di acqua e ad esempio come gli edifici si adattassero all'acqua esattamente come è sempre accaduto in laguna. Qui abbiamo edifici che devono sopravvivere all'acqua, alla terra, al mare, alle maree, al sale. Queste sono risposte che ci può dare l'archeologia. La domanda principale è qual era l'utilizzo economico e insediativo di questa area geografica di fronte alla città di Altino che sappiamo esserne la sua costa. Sicuramente la costa di Altino in epoca romana, quindi in epoca pieno imperiale, ma anche e soprattutto dopo, ed è forse la risposta più importante che abbiamo dallo scavo, che ci indica un arco cronologico di sei secoli di occupazione del sito, quindi molto lungo, dall'inizio del primo fino a tutto il sesto. La domanda è capire cosa si faceva sul mare, vicino alla costa, affacciandosi alla laguna. È chiaro che le risposte vanno cercate sullo sfruttamento della risorsa acquea e sullo sfruttamento delle risorse quindi legate al pesce e al sale, che sappiamo dalle fonti essere presenti ad Altino, ma non sono mai state, come dire, inquadrate, trovate fisicamente. La fondazione di questo muro va a posizionarsi esattamente al di sopra di un'altra struttura molto possente che abbiamo intercettato in questa zona e che è costituita completamente in legno, quindi è la fondazione di una struttura precedente che viene intaccata e tagliata dalla fondazione del muro. Struttura in legno costituita da questi grandi elementi, ne abbiamo rinvenuti quattro l'anno scorso e ci aspettiamo, diciamo, che però la fondazione prosegua anche oltre in quella direzione. Uno è qui e gli altri sono collocati appunto a distanze regolari di un metro e mezzo l'uno dall'altro, esattamente in linea. Si tratta di veri e propri tronchi di querce di grandissime dimensioni, sono stati tagliati quando avevano un'età intorno al secolo più o meno, quindi si tratta di querce secolari molto imponenti e adesso non si può apprezzare perché la conservazione dei pali dipende anche appunto dal grado, dal tasso di umidità, quindi tendiamo a tenerli più umidi possibili, ma questi pali sono segati alla base, sono piatti e poggiano su due lunghi travi quadrangolari che fungono tendenzialmente da supporto, da dorminti. Dopo questa sistemazione tutti i pali sono stati inzeppati con ingenti quantità di argilla che dovevano fare sia da consolidante, diciamo, per tenerli in posizione, che da isolante. Abbiamo visto infatti che queste argille molto fini fungono da impermeabilizzante e anche questa è una caratteristica del materiale che è sempre stata nota in Laguna, tant'è che ancora oggi Pozzia e la Veneziana si basano proprio sull'impermeabilità della camicia d'argilla per poter funzionare. Ecco, quindi voi potete osservare una sorta di tradizione edilizia plurimillenaria? Sì, diciamo che sembra che ci sia una sorta di determinismo ecologico che porta alla scelta, alla predilezione di particolari materiali rispetto ad altri. In questo caso infatti, sebbene non abbiamo una grandissima costruzione di laterizi come ci aspetteremmo dall'età imperiale, contando che queste sono evidenze di pieno secondo terzo secolo, ma la monumentalità si esprime appunto nella scelta di materiali comunque dal notevole impegno economico che necessitavano anche di maestranze specializzate con un know-how notevole. È stata quindi di un investimento comunque notevole che si esprime in forme diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati a vederle per la pianeta romana. Quindi un edificio sull'acqua che sta appena dietro un altro edificio in muratura, che forse è l'abitazione principale o forse comunque ha un'altra funzione ma di fatto è costruito in muratura, di legno che ha un elemento abbastanza interessante al centro. Qui noi l'abbiamo scavato soprattutto l'anno scorso, cioè che è una cisterna d'acqua, cioè un invaso in argilla, foderato di argilla, pieno di sapo. Allora, è questo settore triangolare e queste fosse di spogliazione sono le fosse di spogliazione che se fossimo in uno scavo basso medievale a Venezia diremmo sono i gattoli. Cosa sono i gattoli? Sono delle canalette per far correre l'acqua piovana del tetto e portarla ad entrare in questi pozzi filtranti, cioè i pozzi, noi li chiamiamo la veneziana, è un pozzo alla veneziana, esatto, però in questo caso forse la veneziana prima di Venezia, che sicuramente doveva accogliere l'acqua dal tetto di questo edificio, che con ogni probabilità ha almeno un andamento a C, se non a quadrato, non possiamo saperlo perché non abbiamo ancora scavato qui, non guardiamo questo muro che si vede molto bene nello scavo, che arriva molto dopo, arriva due o tre secoli dopo. I pali di legno all'inizio l'anno scorso pensavamo che definissero un magazzino, a questo punto forse per il sale, che è un prodotto che deve stare fuori dall'acqua, quindi sollevato e piuttosto pesante, quindi per i sacchi di sale, oppure anche proprio per delle, come dire, del sale sciolto. In realtà ci siamo resi conto che, lo possiamo, lo posso spostare in diretta, no, non questo, mi scuso, questo va fatto così. Quindi l'edificio in legno è proprio tutta l'area rettangolare, per cui siamo davanti a un edificio piuttosto insolito perché si data bene al primo secolo d.C., cioè si data con gli affreschi. Chi ha costruito una casa decorata con affreschi di primo livello, con marmite, pavimenti in tessere emosive, decorazioni e usava ceramica da mensa di grande livello, quando deve costruire un'area di lavoro lo fa con questi pali di legno, non per mancanza tecnologica, anzi, proprio usando molta tecnologia e probabilmente molto materiale, molti pali di legno, per costruire qualcosa che serviva esattamente in quelle condizioni a mantenere un prodotto o una serie di prodotti in buone condizioni. Questa è l'ipotesi di lavoro. Il letroponimo alle saline, che porta l'agriturismo, è dovuto dal fatto che l'isola che si affaccia sullo scavo, l'isola delle saline, è stata in uso fino al 1800, tra l'altro con delle macchine da vapore molto innovative per spostare l'acqua nelle vasche. Il luogo, noto come luogo fondamento salinarum in tutto il Medioevo, agli studi di Occhè, non è stato continuativamente sempre utilizzato come salina, ha avuto dei momenti in cui è stato utilizzato, dei momenti in cui è stato abbandonato. Il motivo degli abbandoni è la presenza di acqua salata, cioè quanto è possibile avere acqua buona salata che arriva dalla bocca di porto dal mare. Ora sarebbe impossibile, è troppo lontana. L'ipotesi che ci sia una continuità tra le saline di epoca moderna e medievale con le saline romane, naturalmente a quote molto diverse, viene da dei rinvenimenti piuttosto peculiari nella laguna, che si sono fatti negli anni a partire da Ernesto Canale, negli anni 80-90, ma poi molti altri, fino a recentissimi, proprio a cura della sovrintendenza, di queste strutture arginali con doppie file di pali riempite di anfore, che erano chiamate un tempo arginistrada. Cioè si immaginava fossero delle vie, dove doppie file di pali, più o meno avevano questa forma come nel disegno che abbiamo tentato di costruire, una doppia fila di pali riempita di anfore, anfore spesso semi-intere, cioè solo spaccate, che servono a tenere il fango con copertura di emblici, mattoni, l'idea iniziale che si aveva è che fossero delle microvie, magari anche per l'alaggio. In realtà, studiandone sempre di più, ci sono mappe dove si possono distribuire in diversi settori della laguna e si può vedere anche come si comportano e dove si concentrano. Abbiamo l'impressione, e guardando anche poi naturalmente simili strutture in altre aree, in Dalmazia, ma anche nello stesso porto di Roma, nel litorale ostiense, che questi argini in realtà non erano per camminarci sopra, cioè ci si poteva anche camminare sopra, ma il primo fine è per dividere l'acqua dall'acqua, per dividere l'acqua salata dall'acqua meno salata, per tenerla dentro, per filtrarla attraverso delle chiuse e quindi per ottenere dei fondi salinari. L'importanza del progetto di vivere d'acqua risiede anche nel contesto geomorfologico del luogo in cui siamo. Per quale ragione? Perché in realtà, l'io piccolo, in epoca antica, risulta essere un po' quel limite, quella sponda tra il mare e la laguna. Infatti, la laguna, come la intendiamo noi oggi, era un ambiente totalmente differente, in quanto aveva più una forma, una somiglianza di un golfo, non tanto di una laguna. Un golfo che era strettamente legato alla città di Altino. Infatti, l'ambiente stesso lagunare, che è l'ambiente poi che chi viveva la villa, chi abitava all'interno della villa, sostanzialmente dipendeva fortemente, molto probabilmente, da una città come quella altinata. Ecco, per quanto riguarda invece i rapporti tra Altino e l'io piccolo, cosa avete capito? È proprio la costa della città, quindi l'area demaniare della città della costa. Tant'è che noi immaginiamo che queste proprietà, e attenzione, la struttura non è l'unica, c'è ne sono almeno tre o quattro su quella linea. Una è stata indagata da un punto di vista subacqueo, è nota come caballarina, anche se l'area più corretta è Zogia in Cao. Un'altra è pochi metri più avanti, verso la chiesa di Lio Piccolo, ma altri luoghi sono Torcello, San Francesco del Deserto, La Cura, Palude del Vigno e così via. Sono dei luoghi direzionali, diciamo, di queste attività sulla laguna che probabilmente insistono su proprietà pubbliche. Il diritto romano è piuttosto chiaro su questa cosa. La costa e i fiumi e la laguna sono di natura pubblica, quindi non è che non si possono utilizzare, ma vengono utilizzati in concessione. Quindi abbiamo dei funzionari che controllano delle proprietà, siamo in piena epoca imperiale, dell'imperatore. Forse tra l'altro questa è una delle ragioni di questa oscillazione di occupazione. Abbiamo un'occupazione nel primo o secondo secolo, ci sembra una contrazione nel terzo secolo, nel quarto secolo si ricostruisce quasi non vedendo più quello che c'era prima e non a caso la vita dell'impero ha questa oscillazione anche da un punto di vista di risorse economiche centrali date alla periferia a una città come Altino. Quindi un'età piena imperiale, abbastanza bene l'età Antonina, poi va giù e dobbiamo aspettare l'età gota per avere un nuovo Floruit. Sapendo che non sono delle pre-Venezia questi luoghi, Altino, Nelio Piccolo, c'è qualcosa nel DNA della Venezia attuale, della Serenissima, che è stato colto da questi luoghi? Sì, appunto non bisogna fare l'errore di leggere questi luoghi come propedeutici alla Venezia che verrà, ma sono la costa, lo spazio costiero, lo spazio produttivo, infrastrutturale di una città romana. Molto infatti possiamo imparare leggendo i confronti di questi spazi con gli spazi intorno ad altre lagune, quelle di Ostia, quelle nella Francia meridionale, ma anche le città dall'altra parte dell'Adriatico o chiaramente la stessa Aquileia e Grado. I confronti quindi sono fondamentali, infatti i confronti ci aiutano nell'interpretazione. L'elemento che possiamo dire di continuità in qualche modo è questo rapporto del tutto speciale di adattamento e nello stesso tempo di ingegnerizzazione dell'ambiente. Ci si adatta all'ambiente, quindi si costruisce come l'ambiente chiede, ma tutto questo ambiente è ingegnerizzato. Finora noi in quello scavo siamo scesi fino a meno 4 metri dal piano del calpestio o dal piano dell'acqua media non abbiamo ancora uno strato naturale, tutto è riportato. Da ultimo cerchiamo col drone. Il drone ci mostra lo scavo, poi ci mostra velme e varene, ci mostra vasche molto compartimentate, immagino le saline, ci mostra isole, ci mostra un grande canale. Che è il fiume forse. Che forse è il fiume, ecco. Cosa ci mostra? Cosa dobbiamo guardare dal drone? Se avessi la possibilità di alzarsi in epoca romana sopra quel paesaggio, probabilmente è la connessione tra viabilità lagunare marittima e risorse infrastrutturali che segna questi luoghi. Questi canali sono anche gli spazi attraverso i quali le grandi navi onerarie si muovono nella laguna per andare al porto di Daltino. Grandi navi onerarie. Noi sappiamo che esiste un grande porto d'Altino e quindi lì dentro passano navi di una certa stazza che devono poter usare la fluidità dei canali garantita sia dall'acqua fluviale ma anche dai canali di marea per uno spazio non brevissimo. L'ingenializzazione del paesaggio quindi prevede il mantenimento di queste vie fluvio del tizie lagunari. Possiamo usare queste tre parole insieme perché non è ancora una laguna ma non è esattamente solo un delta fluviale del piave stile. Ma nello stesso tempo la creazione di argini, di aree di riporto che diventano subito luoghi di alto interesse dal punto di vista insediativo per controllare le attività e di pesca e di produzione del sale di una grande città come Altino. E quello che vediamo adesso invece perché lo guardavamo col drone in epoca romana guardando con il drone del ventunesimo secolo cosa... Manca la città, manca il padrone di casa, manca il gruppo demico quindi migliaia di persone che abitavano ad Altino che determinavano la presenza di questi insediamenti e quindi chiedevano il sale di quei luoghi, chiedevano il pesce e anche chiedevano che in qualche modo il contatto tra il porto e il mare fosse garantito. Altino non c'è più, c'è una nuova città un po' più periferica rispetto a queste aree, cioè centrale sulla laguna Venezia e queste aree quindi per forza sono andate incontro a un cambiamento che potremmo definire, passatemi il termine, ruralizzazione della laguna. Quindi non sono più la porta di Altino ma sono un'area periferica che è stata centrale anche nella fase pioneristica di Torcello ma nella fase della Serenissima Dieta Moderna diventano come dire periferiche quindi barene e valli da pesca. Allora quanto siete contenti voi già piccolotti perché vi chiamate così a mio piccolo del fatto che si sta scavando nella vostra storia? Allora io parlo per me, io come persona sono contentissimo perché sono venuto qua, l'anno scorso ho visto una cosa, un conto come ho raccontato qua ai ragazzi e vederlo per Gheo e Gheo, questi lavori di scavi, un conto, vederlo con i propri occhi l'anno scorso è stata una cosa emozionantissima per me. Io non so quanti secoli fa è nato Gheo Piccolo, lo so soltanto una cosa, che quando è nata Venezia Gheo Piccolo esistiva già, cioè Gheo Piccolo era già vecchio, diciamo così, adesso è un paese molto molto antico.